Siamo giunti alla conclusione della nostra storia. Ora ditemi, vi è piaciuta la storia del suo stendardo? Sì, maestro Bruno, è stata una storia molto bella e avvincente. Mi è piaciuta perché è stata raccontata il sardo. Maestro, io sarei curioso di vedere le foto dei personaggi della storia. Sono felice che questa storia vi sia piaciuta. E posso anche soddisfare la vostra richiesta perché ho questo bell'album di fotografie. Sfogliamo insieme, così conosceremo molti dei personaggi della storia. Di alcuni purtroppo non abbiamo la fotografia. Sfogliamo insieme. 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 Sfogliamo insieme.